C'è almeno un motivo per cui il Comitato di Grumello Salviamo il Territorio conta di fermare la discarica di rifiuti dell'acciaieria Arvedi, che comprende anche un impianto di trattamento, ed è il fatto che l'area dove ora sorge la storica cava, fra Grumello e Rogione, è soggetta ad allagamento frequente, come dichiarato dall'autorità di Bacino. Su questo fattore punta il Movimento 5 Stelle, che ha raccolto l'appello del Comitato, rivoltosi alle forze politiche regionali, oltre che alle autorità della provincia di Cremona. Sarà il grillino Andrea Fiasconaro, che ha incontrato al Pirellone una delegazione del Comitato Ambientalista, a presentare un'interrogazione con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio regionale, Cattaneo, e alla Giunta Maroni, in Consiglio regionale, proprio per chiedere alla Regione se ha conoscenza del rischio dall'allagamento e se quindi sarà il caso di escludere l'autorizzazione ed attivare la discarica, applicando i criteri del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Non è l'unico argomento che i 5 Stelle useranno nell'interrogazione. Nell'area sono in corso infatti le indagini del NOE dei Carabinieri per presunto caso di inquinamento da idrocarburi. Una volta a conoscenza di queste difficoltà, la Regione potrebbe fermare l'ITER autorizzativo già in corso in provincia, dove è già stata concessa la via a valutazione di impatto ambientale positiva. Sono alcuni degli argomenti che anche il Comune ha utilizzato e che infatti compaiono nelle prescrizioni della stessa via. Il Sindaco Fabio Scio ha ricordato che il Comune ha ancora in mano le fideiussioni e dunque dispone di un potere di interdizione insuperabile. A loro volta i proprietari terrieri potrebbero non accettare di vendere il terreno per la costruzione della strada e della rotatoria a servizio della discarica proposta da Cremona Ecologia. L'eventuale bonifica da idrocarburi complicherebbe ulteriormente la procedura. Il Comitato segue tutte le vie praticabili contro il progetto e la sua autorizzazione finale e continua la raccolta di firme già oltre 700, circa un terzo degli abitanti con alcune centinaia di firme del circondario. A Grumello anche un altro gruppo di cittadini sta raccogliendo firme, sempre contro la discarica, ma stavolta a sostegno del Comune. Intanto continua l'espansione dell'acciaieria, è in corso la costruzione di un nuovo edificio su terreno di Cremona che da quanto si sa dovrebbe essere destinato a contenere il nuovo forno elettrico.